salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale angolo creatività di enza in questo video tutorial andremo a realizzare insieme ai ferri questa bellissima lavorazione è il punto coste ritorte annodate proprio per questa particolarità vedete di questi nodini che poi nel corso del tutorial vi spiegherò passo passo come si realizza è una lavorazione semplicissima facilissima quindi ideale anche per i principianti non è un punto reversibile che come vedete questa è la parte che va sul diritto e questa è la parte che va sul rovescio possiamo realizzare tantissime cose possiamo realizzare dei cappellini possiamo realizzare dei maglioncini possiamo realizzare dei top inoltre visto che è una lavorazione anche abbastanza elastica possiamo anche utilizzarla magari per poter realizzare i bordini ai nostri maglioncini oppure ai polsini oppure possiamo realizzare i bordini ai cappellini insomma è una lavorazione veramente che si adatta a tanti progetti si può lavorare sia con filati sottili e sia con filati più doppi allora prima di andare al tutorial e quindi di realizzare insieme questa questa bellissima lavorazione vi voglio ricordare per chi non l'ha ancora fatto di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina facebook che sulla mia pagina instagram di cui vi lascio il link delle pagine giù nell'info box bene andiamo al tutorial e vediamo come si realizza questo punto allora questa lavorazione si sviluppa su un numero 5 e più 2 per il vivagno in totale 27 maglie poi giù nell'info box vi lascio il link del tutorial di come si avviene le maglie sui ferri di come si lavora la maglia diritto e di come si lavora la maglia rovescio è un tutorial dedicato soprattutto a coloro che vogliono iniziare a imparare a lavorare ai ferri il mio campioncino lo sto realizzando con dei ferri numero 5 e sto utilizzando un cotone adatto bene una volta che abbiamo avviato le nostre maglie iniziamo la nostra lavorazione allora iniziamo a lavorare il primo ferro del modulo e lavoriamo in questo modo lavoro una maglia a diritto che è la maglia di vivagno quindi la prima e l'ultima maglia come sapete le vado sempre a lavorare a diritto indipendentemente dal resto della lavorazione quindi ho lavorato la mia prima maglia a diritto una maglia di vivagno poi lavoro un'altra maglia diritto però la vado a lavorare a diritto ritorto cioè non punto il ferro qua come per lavorare una maglia diritto normale però appunto il ferro nella costa dietro qua così e lavoro una maglia a diritto ritorto lavoro una maglia a rovescio e una maglia a diritto ritorto quindi vado ad alternare per tutto questo ferro una maglia a diritto ritorto così con una maglia a rovescio una maglia diritto ritorto quindi ripeto prendiamo la il ferro lo inseriamo nell'asola dietro della nostra maglia così e andiamo a lavorare un punto a diritto ritorto e andiamo ad alternare poi sempre con un punto a rovescio lavoriamo in questo modo tutte le maglie che stanno sul ferro quindi un diritto ritorto e un rovescio un diritto ritorto e così via per tutte le maglie che stanno sul ferro e termino con una maglia a diritto ritorto e con una maglia a divagno a diritto normale e chiudo il mio primo giro del modulo la mia prima riga del modulo ora iniziamo il secondo ferro il secondo ferro andiamo a lavorare le maglie così come si presentano allora lavoro la mia maglia di divagno a diritto poi vedete si presenta una maglia rovescio la vado a lavorare a rovescio si presenta una maglia a diritto ritorto e lo andiamo a lavorare a diritto ritorto così una maglia a rovescio e una maglia a diritto ritorto per tutto il secondo ferro andiamo a lavorare in questo modo andiamo ad alternare le maglie così come si presentano quindi le maglie rovescio e lavoriamo a rovescio e le maglie che si presentano a diritto e andiamo a lavorare a diritto ritorto come l'abbiamo lavorata nel ferro precedente così gli ultimi due ferri che andremo a lavorare dopo sono un po diversi però sempre molto semplici un rovescio un diritto ritorto un rovescio e un diritto ritorto lavoro le mie ultime maglie un rovescio un diritto ritorto e termino con una maglia a rovescio e una maglia di vivagno a diritto normale abbiamo in questo modo terminato anche il secondo ferro del modulo adesso iniziamo il terzo ferro allora il terzo ferro lo andiamo a lavorare diversamente lavoriamo la prima maglia di vivagno a diritto poi vedete lavoriamo la maglia seguente una maglia a ritorto dritto ritorto quindi la vado a lavorare a diritto ritorto e una maglia a rovescio ora nella maglia seguente andiamo a lavorare una maglia a diritto ritorto scusatemi andiamo allora nella maglia una maglia andiamo a lavorare una maglia a diritto normale così senza far cadere la maglia dal ferro e andiamo a lavorare nella stessa maglia una maglia diritto ritorto così e lasciamo cadere la maglia che sta a rovescio la lavoriamo a rovescio di nuovo lavoriamo una maglia a diritto nella maglia sul ferro su questa qua senza far cadere la maglia del ferro quindi una maglia dritto normale di punto il ferro nella maglia e lavoro una maglia diritto ritorto e lascio cadere dal ferro lavoro una maglia rovescio quindi di nuovo ogni volta che si presenta la maglia diritto ritorto per il terzo ferro vado a lavorare nella stessa maglia una maglia dritto normale senza far cadere la maglia del ferro è una maglia a diritto ritorto così e lascio cadere dal ferro e vado a lavorare una maglia a rovescio e per tutto il terzo ferro dobbiamo ripetere questa lavorazione quindi non dobbiamo fare altro che lavorare quando si presenta la maglia diritto ritorto una maglia diritto normale non facciamo cadere la maglia dal ferro e lavoriamo una maglia dritto ritorto facciamo cadere dal ferro e lavoriamo una maglia rovescio quindi proseguiamo a lavorare in questo modo per tutte le maglie per quando riguarda il terzo ferro quindi anche per quanto riguarda questo terzo ferro è molto semplice bisogna solo ricordare di lavorare le due maglie una dritto normale tra diritto ritorto nella stessa maglia e alternare con un punto a rovescio quindi lavoro la mia ultima le ultime due maglie una dritto normale e un'altra diritto ritorto faccio cadere la maglia dal ferro lavoro un termine il ferro con una maglia rovescio con un diritto ritorto normale così senza prenderla in due volte e chiudo con una maglia a diritto di viva dritto normale con la maglia di vivagno abbiamo in questo modo terminato anche il terzo ferro ora andiamo a lavorare il quarto ed ultimo ferro del modulo quarto ferro lavoriamo in questo modo lavoro la mia prima maglia a diritto di vivagno poi vedete si presenta una maglia a rovescio la lavoro a rovescio la maglia che si presenta a diritto ritorto la lavoro a diritto ritorto poi vedete si presentano le due maglie che abbiamo lavorato prima in una sola maglia una maglia a diritto normale una maglia a diritto ritorto quindi che facciamo le andiamo a lavorare insieme a rovescio in modo tale anche da andare di nuovo a ripristinare il nostro numero di maglie iniziali quindi le lavoro insieme a rovescio lavoro una maglia a diritto ritorto vedete si presenta a diritto ritorto e la lavoro a diritto ritorto mentre invece le due maglie queste qua vedete che si presentano a rovescio le vado a lavorare tutte e due insieme a rovescio una maglia a diritto ritorto e le due maglie insieme a rovescio così e per tutto il quarto ed ultimo ferro dobbiamo lavorare in questo modo quindi una maglia a diritto ritorto normale e poi andiamo a lavorare le due maglie che sono a rovescio vedere tutte e due qua e andiamo a lavorare insieme a rovescio quindi non vi potete sbagliare vedete che già inizia a vedersi il nodino diciamo questi questo nodino separa un po' le coste e quindi anche molto decorativo come punto un po' diverso dal solito punto a costi ritorte abbiamo quasi terminato queste qua che sono dobbiamo prendere insieme a rovescio sono un po' più strette quindi vi consiglio lavorare lavorare magari ferro precedendo un pochino più più morbide evidentemente l'ho lavorato un po' strette quindi mi risultano un po' strette poi al ritorno ecco qua lavoro le mie due ultime maglie insieme a rovescio e termino il quarto ferro con una maglia a diritto ritorto una maglia a rovescio e chiudo con un punto di vivagno a diritto quindi ho terminato anche il quarto ed ultimo ferro di questo modulo ora non dobbiamo fare altro per andare avanti con la lavorazione dobbiamo fare altro che iniziare dal primo ferro quindi ripetere questi quattro ferri per tutto il progetto che intendiamo realizzare io vado un po' avanti con il mio campioncino e poi vi farò vedere la lavorazione ultimata bene sono andata avanti con il mio campioncino e questo è il risultato della lavorazione vedete semplicissima ma di grande effetto inoltre anche molto morbida bene questo è il mio tutorial io spero tanto di esservi stata d'aiuto di avervi dato qualche spunto più per i vostri progetti se il tutorial vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale io vi saluto con tanto affetto e ci vediamo al prossimo tutorial ciao